Prima giornata, Ladies Cup, Kennedy Girl contro Abbey Celeste. Abbey Lossandro e Stranziano, le due squadre si apprestano ad arrivare nel centro del centrorampo per il saluto iniziale. A fianco, a fianco. Con le Kennedy Girl. Il bocca al lupo delle due squadre all'abito e agli avversari. Adesso il tocco dei capitani. Pari o disco? Disco. Ok. Sei pari? Palla campo. Di quattro? Ok. Il bocca al lupo delle due squadre. Prima giornata, Ladies Cup, Kennedy Girl contro Abbey Celeste. Seguiamo tutto il primo tempo. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.